Hello ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farmix Simulator 17 e naturalmente ragazzi in compagnia di Mito Ciao a tutti Allora ragazzi, nello scorso gameplay, se sicuramente, penso vi ricordate, io e Mito abbiamo iniziato diciamo con una mod che aggiunge gli api ari Siamo diciamo al buon punto, siamo rimasti Cos'è questo? Il punto diciamo in cui viene prodotto il miele mischiato con latte? Sì sì sì, infatti adesso se tu guardi manca proprio, cioè il latte manca Ma scusa, mi hai detto che dovevamo prendere anche un mezzo per trasportare il latte? Sì sì sì, andiamo dalle mucche direttamente, così facciamo tutto quanto, piazziamo le cose che ci servono Ok, che lui è l'esperto raga perché io in sta modo non la conosco, lui la conosce invece che già l'ha giocata nella sua serie Quindi, sa cosa bisogna fare Ah, naturalmente un attimo, scusa Mito, mentre che tu ti avanzi Naturalmente ragazzi, nello scorso gameplay mi ero dimenticato di dire come si chiamano queste mod che abbiamo messo Le trovate tutte nel mod hub, quindi direttamente dal gioco, nella sezione mod In descrizione vi lascio scritto i nomi di queste mod La maggior parte mi pare si trovano su beta, comunque le trovate lì queste mod Ok, dicevi Mito? Allora, se tu qua prendi l'oggetto posizionabile, ci serve il latte E dobbiamo prima di ogni cosa mettere un punto dove poter prendere questo latte Vedi che abbiamo messo questa mod che è il Milk, il trigger, è un punto fisso Sì, 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 allora questo milk fill trigger Ok, lo devi prendere e piazzare più o meno qui dove sono io Quindi, vici, sì, lo mettiamo qui perché comunque le pecore sono qui, le mucche sono qui ed è comodo Ma lo puoi mettere dove vuoi, non succede niente Ok, quindi dici che lo metto semplicemente qui vicino alla serra, andrà bene? Sì, penso di sì, tanto lui va... Ok, guarda, l'ho messo dove sei te Ok, perfetto, io l'avevo messo da quella parte ma anche qui va bene Allora, poi dobbiamo comprare un'altra cosa, non abbiamo finito Se vai in attenzione animali, la Slow Bee Pack aggiunge anche uno Slow Oni Bee Un carrettino a forma di apetta Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto, ora lo compro Seleziona, compra, compra, comprato Lo vado a prendere? Sì, e vieni qua a ricaricare Nel frattempo che tu ricarichi, io sai che faccio Ma perché? Cosa c'ha lui che devo ricaricare? È già pieno di qualcosa? Eh, no, che vuol dire che è pieno di qualcosa? Non c'ha niente E tu hai detto, vieni qua a ricaricare Eh, devi prendere il latte, devi prendere Ok, una cosa alla volta... Ah, ok Ok, c'è un mezzo qua, lì sotto c'è un bel trattore Ok, ancora non ho sistemato la... come si chiama? Group Vehicle Switch Eh, ancora non l'ho sistemata Quindi sto mezzo lo piglio come viene, viene Vabbè, comunque l'ho trovato Ok, ragazzi, quindi Vado a prendere questo serbatoio Dici per il latte o per il miele? Prende tutto quanto Prende, non hai bisogno di prendere altre mod Per prendere il latte Questo qui trasporta tutto Perfetto Ma al momento il latte classico però viene venduto in automatico Quello che fanno le mucche classico, o no? Sì, ma a noi non è che ce ne serve tantissimo La sera comunque viene venduto in automatico perché non l'abbiamo fermato E in più, se noi vogliamo soffrire del latte delle mucche Lo possiamo prendere tranquillamente Quindi diciamo che il numero viene preso dal latte delle mucche Comunque quello che prende Sì, sì, sì Non è infinito, diciamo, ok No, no, no Eh, se no era brutto Ok, ragazzi, quindi ecco qua Prendiamo sto serbatoio E anche carino perché è fatta da pina Sì, sì, c'è stampata l'ape maia Vola, vola, vola l'ape maia Hai visto? Non so cantare, lo c'è un perdo Eh sì, solo io posso cantare Io sto vendendo qui all'insilato perché ci serviranno un 20.000 euro Visto che ce lo pagano anche 9.50 l'insilato Che cacchio c'ho scritto? Gib mir honig Ah, ok È in tedesco Dammi il miele, credo Non so come si chiama il miele in tedesco perché non ne ho mai fatto uso Honey è in inglese Ah, sì? Il miele Sì, sì Eh, però c'ho scritto in tedesco Gib mia, dammi Ok Vabbè, non entriamo nei dettagli, ragà Perché comunque è vero che sono stato in Germania Però non è che sono esperto della lingua Anzi, completamente Comunque Me la cavicchio Dunque, come si ricarica sto coso? Ah, perfetto Quante ne devo prendere? Ma prendile un bel po' Tanto prima o poi Eh, ci serve Ah, sì, dai Quindi dicevi Ma dov'è che si vede il latte quello che abbiamo? Dalle mucche Animali Mucche Dovrebbe essercene Eccolo là Esatto Deposito di latte Difatti, ragazzi, se avete visto È sceso un po' Perfetto Era 17.5 Adesso sarà 10.000 e qualcosa Ma oltretutto Ho visto che ci sta anche l'altro Quello per vendere il latte Eh, sì Ma il latte se lo vende da solo il gioco Non ci interessa Appunto Difatti non stavo a capire Sta cosa del vendere Eh, adesso Ci serviranno un altro 20.000 euro Perché dobbiamo prendere anche il punto Dove vendere questo latte e miele Perché il gioco non l'accetterebbe mai Certo, certo Difatti, ragazzi Notate che i soldi aumentano Perché c'è Mito Che vende quel poco di insilato Che, diciamo È rimasto Eh, sì Quindi sono io che sto vendendo Perché ci servono soldi E vendiamo Vendiamo tutto Però è durato un bel po' Quel coso lì Quell'insilato E poi ne faremo un altro bel po', ragazzi Perché ovviamente Sono soldi Sono tanti bei soldini 54.000 Ok Intanto Nick è di strada Con il latte Quando arrivi là Controlla pure Che il signore Che costruisce le casette Sta lavorando Controlla le api Eh, sì Controlla sempre che lavori Tutto quanto Perché se gli finisce il legno Lui si ferma, credo Certo Ed è meglio E mo' vediamo Mo' vediamo Perché naturalmente Vediamo Qualche albero Qui e là Lo pesco sempre Sì, ma tanto Non è che ne abbia bisogno Proprio tantissimo Però un po' ci vuole Qua ci voleva Porteremo Poddy Per portargli il legno Alle casette Eh, lo so Lo so Ragazzi, lo so Poddy tornerà naturalmente Anche così come Jakur Che al momento Non ci stiamo trovando Bene con i tempi Però naturalmente Anche loro Verranno Verranno nella serie Aspetta Allora Sono arrivato con il latte Dov'è che lo devo scaricare Sto latte Quindi se tu ti metti Lì sotto Non mi ricordo Se questa qui È uguale alla cotta Che esce il tubicino Mi sa che non esce Nessun tubicino Allora Qual è la air Oh, perfetto Lo vedi il tubicino Ma che è figato, raga Guarda Va come è fatto bene È fatto veramente bene, raga Ok Vediamo qua Cos'è che gli manca Quindi Il latte ce l'ha Allora F1 Milk Che manca Honey Milk Manca No, quello è quello che fa lui Ah, manca proprio Il miele Il miele manca Quindi dobbiamo vedere un po' Ma mi sa che non ce n'è miele Perché comunque il server è rimasto fermo Difatti 8 Metto un po' veloce Prova a prendere questo qui Questo B.I. Quindi la casetta delle api E la metti lì dentro Così ne aggiunge un'altra Eh, sì, le mette un'altra Ma scusa, non è completo però Così come è Non fa niente Non fa niente Prendila tranquillamente Lui ricomincia da zero Ah, che bello saperlo che ricomincia da zero Non se ne fa problemi lui Ok, così qua Vedi Non ci entra sto coso capo È difficile solo farlo entrare Ok, se l'è preso Dove cacchio è finito non lo so L'avrà messo insieme all'altro Sì, perché adesso c'è 9 Prima era 1 Ah, quale 1? Dove è sto 1, scusa? Se tu premi F1 Ti dice BeHive 9 Prima era 1 Ah, la percentuale Certo, perché più aumentiamo E più produce sta casetta È naturale Ok Prendi questi 13 litri di miele Aspetta un attimo Qui lui è ancora C'è il 97% di legna, no? Sì, sì, sì Lascialo tranquillo Lascialo Ok, allora aspetta Mettiamo il gioco un po' veloce A sto punto mi pare che serve solo il miele, no? Sto 15 cos'è? Non è niente Questo 15 Ah, questo 18 qui è il miele, no? Come non è niente Si dica niente come che dire che è poco Eh, sì Però attento che se metti 120 Gli animali poi soffrono Eh, vabbè Oh, stanno a soffrire Ho capito Chi è che non soffre oggi come oggi? Eh, sì Oggi come oggi è così Vabbè, aspetta Arriviamo al mezzogiorno Così arrivano un po' di soldi Diciamo dalle altre cose Ok Eccoli là Ok Mettiamo 5 per, dai Allora Oh, ok Porto il miele Certo che ce n'è veramente poco Per ora si riesce a fare poco Vabbè, ce n'è poco perché Manca lì dentro Tutte le cose, no? Eh sì E bisogna andare Metti questo qui Ok Lui già ha fatto 50 litri di miele Di latte e miele Sì Ok Prima di fare il latte e miele però Prima di raccogliere Dobbiamo costruire l'altra casetta per vendere Ok Qual è? Vediamo un po' In oggetti posizionabili La trovi sempre lì Eh Shlove Sell Sì, costa 20.000 dollari Ok Questa qui Oh, questa è grande, cavolo Può essere che Oh, la metto qua, vai Malle che va La sposto quando c'ho voglia Dov'è che l'hai messa? Eh, lì sotto, guarda Ah, sì, sì, sì Ok, perfetto Mi sembra che sia questa la facciata dove si vende Fammi vedere Mi pare che ci ha azzeccato Sì, è da questa parte mia Dalla mia parte c'è dove si scarica per vendere Ah, da dietro, e porca miseria Eh, cioè, vabbè, arrivi qua col camion Non c'hai problemi Di là non c'è niente Ah, sì, perché Perché comunque Siamo a buon livello qui Non è alto Sì, sì, sì Quindi tu con la stessa mod là Che hai trasportato il latte Puoi trasportare il latte e miele Lo carichi Eh Ok, aspetta A quanto ho visto Latte e miele è poco Però comunque Non è finito il mezzo Ah, qui, l'hai spostato Sì, sì, l'ho spostato un pochino F1 Latte e miele 383 È finito il miele Quindi non produce altro Ah, già se l'hai consumato tutto Sto miele Eh, sì, perché Siamo a 5x Per quello Va che la bellezza va Io continuo a prendere sti cosi Raga, perché Come avete visto Siamo al 9% Dobbiamo continuare Fino al 100% Così che Magari prima o poi Comparirà la seconda casetta Ma per ora Neanche la prima È proprio costruita Ok Siamo al 13% E ancora È ancora niente Ma sto coso Che posso raccogliere da per terra Che cos'è No, niente No, no, niente Solo per bellezza Non ti fa fare niente Quindi 13% Diciamo Di produttività Quando facciamo Il 100% Quindi In meno tempo Produciamo di più Sì, sì, sì Produciamo di più E ci saranno Secondo me ci vanno 4-5 casette Qua per Le api Sì, sì Probabilmente Appena arriviamo Al 25% Passato Comparirà Alla prossima casetta Ok Mettiamo veloce Dai Mettiamo veloce Dai Sì, sì Fallo lavorare Alla fine Qua Gli animali Potremmo anche andare A trattarli ora Se non abbiamo Altro da fare A sto punto Sì Prendi solo questo miele Qui anche se è 13 litri Io lo porti dentro la casetta Va bene Ok ragazzi Quindi per ora Lasciamo il tempo veloce Perché dobbiamo Naturalmente Lasciare il tempo Necessario Per aumentare La produttività Qui Quindi mettiamo questo Così continuo a produrre Già finito Certo Che ci vuole Ah beh 120 mi pare anche ovvio Eh sì 120 se lo spara subito Va bene Io vado un attimo A controllarla Ah ancora qui Figurati che se sta A prendere Erba Eh dai Pigliala tutta Forza Ok Allora tu dove sei andato Dalle pecore Dalle mucche Devo pulir per terra Ora di fatti tra poco Metto piano Perché è inutile Tenere sto tempo Così veloce Allora Riva dalle pecore Intanto Sì ma aspetta Prima di raccogliere La sporcizia Aspettiamo che Che ferme il tempo Insomma Arriviamo verso le ore 15 E fermiamo il tempo Ok No io intanto Gli do da mangiare Perché però Qua non c'è più il trattore Dalle pecore Ah no L'ho trovato L'ho trovato Ok perfetto Ok Ok ore 15 Ragazzi Rallentiamo il tempo E cominciamo a pulire Perché se no Gli animali qua Rompono l'anima Allora Mi pare che soprattutto Il problema è Dalle suini E dalle pecore Più che altro Caspitina Questo qui Non mi fa Non mi fa Raccogliere Ah vero E vero E vero Ah mannaggia E scusa Ce n'era uno Da qualche parte Non mi ricordo dove Non ho capito Perché non mi fa Caricare questo carrello Eppure l'accetta Lo so Lo so Lo so Non lo so Manco io Guarda Allora Praticamente Dovrei andare A pulire Eccoci qua Devo pulire I maialini Quindi facciamo anche questo Raga facciamo naturalmente Tutto il necessario Poi dopo Andiamo a controllare Un'altra volta Il latte e il miele Io intanto pulisco le pecore Quindi Facciamo la pulizia E si Io sto pulendo i suini Poi che altro Ah si Per sta cosa qui Del cibo delle pecore E ora vediamo Un carrello Utile Da qualche parte Lo C'è di sicuro Oppure ne prendiamo Uno piccolino Ma si Ma c'è già Da qualche parte Uno piccolo Che non sta a fa Mi sa niente Quindi Useremo quello Naturalmente Ok Ma lo vado a cercare Vedo qual è Ma si Guarda Guarda nelle Guarda nella mappa Prima o poi Lo becchi Quello che Quello lì Tutto snodabile Mi pare che Vedi Vedi un po' Dove è rimasto Perché non ne ho La più pallida idea Dove si Di dove è rimasto Ok Intanto Ho pulito Le pecore Così la produttività È al massimo Io ho pulito I suini Adesso Devo solo Trovare Quello dell'acqua Che è qui Ma è il cibo Per i suini E difatti I suini Stanno messi male Ma cacchio è Tutto il resto Boh Ma se provo Un attimino A caricar sta roba Magari se la prendono Perché la vorrei Togliere da qua Per terra Che dà una vita Che è qua Eh si Tipo la colza Vediamo se pigliano Un po' la colza Raga Ok Allala I do l'acqua Ok Così un attimino Sistemiamo anche Gli animali Difatti La colza Se la sono presa Tutta Colza Colza E ancora un altro Poi E la posso mettere Va bene L'acqua è al massimo Lascio qui Vado a cercare Questo carrellino Sì sì C'è da qualche parte Di sicuro Eccolo qua Mi sa che L'unica cosa Che manca No le patate Ci stanno pure Perfetto Perché comunque Abbiamo il cibo Pronto in fattoria Però visto che Qua ci sta Il cibo Buttato Così Lo togliamo pure Quindi colza Va bene Pgliamo un po' di patate E poi frumento Orzo Che spero Che ci sta Ma era quello verde Che c'è dalle bucche Dici tu Che cosa Di carrellino Perché ce n'è uno verde Piccolino Dalle bucche Eeeh No Quello piccolo 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 No Ce n'è un altro Medio Verde Forse si Non è questo Allora Non mi ricordo Dove l'ho lasciato Dicappa E ce n'è uno Al negozio Quasi così Mi prendo questo Mi prendo Allora va bene Sarà lui forse Non mi ricordo Sì sì dai Sì sì dai Prendo questo qui Del negozio Sennò Non so qual è Ok Lascio tutto qui Vediamo se troviamo ragazzi Frumento orzo Che comunque so bene Che c'è da qualche parte Frumento Sarà questo Frumento orzo Vediamo che cos'è No Questo è semi di soia Ok Semi di soia Non ce ne faccio niente E allora Visto che manca solo Frumento orzo Questo ce l'ho in base Se c'è il camion Ancora pieno Con frumento orzo Io lo vado a buttare Allora Fammi vedere qua Mi fa impazzire Sto trattorino Ok Ripeto Ma c'è andato con quello piccolino Eh sì Vado direttamente con quello Ah ma prima o poi Mi sa che li cambiamo proprio Vabbè io Pillo insomma Sto camion Raga Vado a prendere un po' di Frumento Che io lo porto un attimo Ai suini Dopodiché Anzi Veramente adesso Appena facciamo il giro Allo ritorno Vediamo un po' di sistemare Sta cosa del latte Allora Allora Un po' di frumento Thank you Allora Frumento 8000 Quanto me ne possa V Sì sì Dai Questo Questo è perfetto Ma dove è finito Ah l'altro frumento Mi sa che l'ho venduto Forse Sì l'ho venduto Vero L'ho venduto Sì l'ho venduto Perché se vivono i soldi Per comprare ste cose Vabbè Questo mi basta Per ora La CR10 Che fine ha fatto Non è più qua È sul campo 5 Ah vero L'avevi messo là Ok Dunque Raga Lasciamo un attimo Il camion qua Vado a prendere ancora Quel poco Di Mie Anzi no Facciamo le cose così Prima Pichiamo questo E lo mettiamo Al Al posto giusto Mannaggia Sto tipo che c'ha le mani morte Vai dentro Però va a lasciarlo da fuori Sì sì Mo ce ne sono due E siamo al 31% Perfetto Quindi mo la produzione È migliorata Di miele Quella comunque Non è la produttività È quel 31% Lo so La quantità di Sì la quantità di Cassette Come si Non mi ricordo manco Come si Chiamano Arnie Arnie Giusto Aumentano le Arnie Mi pare Fino a 4 È il numero Massimo Perfetto Vorrei fare Quindi che metto Di nuovo un attimo Il tempo Veloce Così che mi finisce Pure sto pochetto Di miele Forza Eccolo Perfetto Così abbiamo Adesso in tutto 1000 litri Di Latte Quindi faccio Quindi faccio Un attimo Sta cosa E poi porto Il cibo Ai suini Quindi Carichiamo Un attimo Ragazzi Questo latte Così vediamo Anche come si Vende Ma mi pare Che devo Spostare il camio Perché sta Messo proprio Davanti Ce la fa Ok Ce la fa Gli do anche Da mangiare Le pecore Così sono a posto Perfetto Così con gli animali Siamo a posto Per un po' Quindi vediamo Di caricare Il latte Mischiato Con il miele Che poi io Non ho capito Che è sto Latte e miele Cioè in Italia Non si vende Latte e miele Ah che ne so io Comunque lo sto prendendo Eccolo qua 9,99 Mentre era 1000 Chissà chi fine ha fatto Quel unico pezzo Quindi andiamo qua E Vendiamo Il prezzo di vendita Non lo so Neanche io Ci dovrebbe essere scritto Ma non me lo fa vedere F1 Non dice niente Comunque Con la I Scarica Vediamo i soldi Vabbè 1000 Vediamo un po' Saranno circa 1500 euro Ogni Ogni 1000 Sì Ogni 1000 litri Circa 1500 O 1600 Beh è buono Non è male Ha un bel po' di soldi Ma è capire Perché non dice Il prezzo adesso Forse perché siamo sul serve Però no È un multiplayer Non lo so neanche io Vabbè Comunque questo lo lascio qua Sì no Vabbè sul server Non me lo dice mai Di preciso quanto mi ha dato Ok Nella tabella dei prezzi Manca proprio La sezione di questo tipo di prodotto No ci sono No ci sono ci sono Ma non c'è il prezzo qui Con il quale te lo pagano Prezzi È l'ultimo È l'ultimo alla fine Ah è vero Ricordo Figurati Ah ok vabbè Comunque ragazzi Andiamo un attimo A dare Quest'ultima cosa Ai suini Così sono a posto Per un po' di tempo Anche se poi Li devo vendere Un pochetto Perché Ne faccio solo La collezione Gli do da mangiare Per niente Quindi magari La prossima volta Ne vendo un carico Magari lo vado a vendere L'acqua mi pare Che c'era Non mi ricordo L'acqua Sì però Hai il solo trattore Ah no il trattore Ci debba essere Chissà Sì il trattore c'è Là sotto Vicino all'acqua Ok Qua le balle Tutte cadute Ma lo sia Beh poi Quelle due in più Le sposto Allora Diamogli pure questo Ai nostri Suini Frumento Orzo Perfetto Sto pochetto Lo scarico qua Così poi in futuro Io lo butto Direttamente Anzi per ora Visto che il camion Non mi serve Lascio direttamente Il camion qua Poi vediamo Gli stai dando l'acqua Va bene Sì 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 Allora mi pare Che comunque Abbiamo fatto vedere Tutto quello che c'era Da vedere Con questa mod No? Sì tutte le mod Le trovate nel mod hub Sì sì Esattamente In descrizione Vi lascio scritto Esattamente I nomi Delle mod Così Li trovate Più facilmente Va bene ragazzi Quindi noi ci fermiamo Qui Abbiamo sistemato Anche gli animali Abbiamo fatto Quello che c'era da fare Con il miele Naturalmente Dobbiamo continuare Ad aumentare Le arnie Per produrre Sempre di più Quindi ragazzi Speriamo che questo gameplay Vi sia piaciuto Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Ci becchiamo Verso in un prossimo gameplay Naturalmente In descrizione Trovate il canale Di Mito Ragazzi Vi salutiamo Ciao alla prossima Ciao a tutti